Chiudete gli occhi e immaginate di essere seduti al tavolo di un pub con la vostra birra e i vostri amici. Sentite delle voci vicino a voi, alcune giovani e altre più vecchie, che stanno parlando di un argomento a voi familiare. Decidete di prendere la sedia e avvicinarvi un po' per sentire meglio, fino a quando vi chiedono se volete aggiungervi al tavolo di cavatappi. Oggi il tavolo si tinge di rosso, il colore della vita, e le persone riunite qui con noi si impegnano a salvare e far salvare centinaia di vite ogni giorno. Abbiamo il piacere di ospitare a cavatappi Cristina Montorfano, presidente di Avis Cantù, Ivana Casella, attiva nella sensibilizzazione di Avis Cantù nelle scuole, e Alessandro Rusconi, referente di Admo Como. Due realtà di volontariato ramificate sul territorio nazionale, che si occupano l'una di donazioni regolari di sangue ed emocomponenti, l'altra di donazione di midollo osseo ai malati per combattere la leucemia. Io sono Giulia. E io sono Fritz. E questo è Cavatappi, il podcast che stappa la mente. Inizieremo la puntata, magari lasciandovi presentare, quindi se ognuno vuole dire qualcosa di sé, che ruolo avete nelle diverse associazioni? Allora inizio io, mi chiamo Ivana Casella, faccio parte dell'Avis di Cantù e mi occupo prevalentemente delle scuole, di far conoscere la nostra associazione nelle scuole. Sono una docente di scuola primaria e faccio, diciamo, il presento ai bambini, sia nella scuola dove lavoro, in via Casartelli, che nelle altre scuole delle zone limitrofe, la nostra splendida associazione che ha un ruolo molto indispensabile fin da piccoli. Io sono Cristina Montorfano, sono il presidente dell'Avis comunale di Cantù. Sto svolgendo questo incarico per il secondo mandato dopo aver assunto altri ruoli negli anni precedenti. E ora questo bel ruolo pieno di responsabilità, ma anche stimolante, devo dire. La nostra associazione si occupa di donazioni di sangue, quindi il nostro obiettivo è quello di ricercare, di cercare i donatori per le donazioni di sangue, in collaborazione con le strutture sanitarie del territorio, a secondo delle loro richieste. È importante e basilare, appunto, capire la funzione del donatore di sangue, perché è una, io dico sempre che è un pilastro che sostiene la sanità pubblica, la sanità in generale, perché altre realtà senza le donazioni di sangue non sarebbero possibili. Ed è stata una grande intuizione questa del dottor Formentano, lontano 27, bravo, vedo che hai studiato. Di strutturare la nostra associazione basandola sulla gratuità, che secondo me è una cosa importantissima, perché il donatore svolge questa sua attività in modo consapevole, responsabile, gratuito e anonimo. E non è cosa da poco, scusatemi, perché ciò permette di avere la sacca di sangue perfettamente controllata dal punto di vista sanitario, ma anche è un dono, è principalmente un dono. Uno decide, una persona decide di fare il donatore di sangue, decide di donare qualcosa di se stesso e non è poco. E quindi il nostro obiettivo è quello di diffondere questa cultura, questo messaggio. Lo facciamo sin dalle scuole fino a, chiaramente, alle persone adulte, perché a tutte le età, sì. Fino a 60 anni si può iniziare a donare. Quindi, coraggio, c'è posto. Ciao, io mi chiamo Alessandro Rusconi e sono il referente di Adamo Como. Facciamo riferimento ad Adamo Lombardia, Adamo, associazione donatore di midollo osseo. Perché sono volontario? Perché ho avuto un'esperienza di malattia diretta, all'incirca, no, non all'incirca. Proprio questo mese cade proprio i dieci anni, i dieci anni, sì, dal mio trapianto di midollo osseo. Ho ricevuto questo dono meraviglioso. Perché? Perché mi ero ammalato di leucemia. Per guarire da queste malattie, che sono malattie del sangue, in alcuni casi, in molti casi, come il mio, le chemioterapie, come tutti sappiamo, sono quei farmaci che servono per guarire dalle malattie onco-ematologiche, non sono sufficienti per debellare questi tumori e io avevo bisogno, come ripeto purtroppo tante altre migliaia di persone, di un trapianto di midollo osseo. Perché parliamo di midollo osseo? Perché il midollo osseo è la casa delle nostre difese immunitarie e a me non funzionava più bene. Si era inceppato, si era continuava a fare il suo lavoro, ma male. Chemioterapizzato, ha fatto tre cicli di chemio, ma non ne sono stati sufficienti, come ho appena detto, per debellare completamente la malattia. In pratica la mia casa delle mie difese immunitarie andava cambiato con una donazione di cellule staminali. Il grosso problema è che la percentuale di compatibilità, qui stiamo parlando di compatibilità al livello di DNA, è nel mio caso, io ho ricevuto da mio fratello, io ho giocato in casa, come a me piace dire, è del 25%. Avevo il 25% di poter guarire da questa malattia e ho avuto questa immensa fortuna. Pronti via, si va a cercare le cellule staminali del donatore in famiglia. Se, ripeto, moltissime persone non sono fortunate come me, cosa si va? Cosa si va a cercare e soprattutto dove? Nel registro mondiale dei donatori di midollo osseo. Però qui cominciano a esserci ancora più problemi, qui comincia a essere, ci giochiamo la percentuale di 1 su 100.000. Immaginiamoci San Siro, che è lo stadio che in zona ci rappresenta un po' di più, sappiamo più o meno tutti ben presente della capienza di cos'è. Tiene 85.000 spettatori. Meno di una persona di San Siro è la probabilità di essere... Esatto, esattamente. A me piace dire, immaginiamoci di essere a centrocampo e di trovare il nostro gemellino genetico. Non è sufficientemente capiente San Siro, tanto per renderci l'idea che più ci iscriviamo al registro dei donatori, più diamo la possibilità nel concreto. Io ne sono la dimostrazione di poter salvare una vita. Chi cerchiamo noi? Noi cerchiamo, ragazzi, dai 18 ai 35 anni, 36 non compiuti, quasi non almeno 50 kg, e che ovviamente godano di buona salute, ma soprattutto, e qua lo sottolineo, che abbiano la voglia di salvare una vita. Grazie per questa testimonianza veramente importante. Ecco, quindi Alessandro ci ha spiegato come si è avvicinato ad Admo, proprio provandolo sulla sua pelle. Tu, Cristina, invece, per quanto riguarda la tua associazione, nella tua vita, come ti sei avvicinata ad Avis? Ci hai detto prima che hai fatto altre attività, prima hai ricoperto altri ruoli. Altri ruoli all'interno dell'Avis, sì. Io sono stata avvicinata con il bellissimo Passaparola, perché sono stata coinvolta da amici, da conoscenti. Ma una domanda semplicissima, banalissima, ma perché non doni anche tu? E lei mi sono chiesta, già, perché no? Ho provato a fare il percorso di idoneità, quindi la visita con il medico, gli esami di idoneità e gli accertamenti necessari, e da lì ho cominciato a donare sangue. Poi è un passaggio quasi naturale, ti coinvolge, poi sono quelle due, in caso delle ragazze, perché allora era una ragazza, donazioni all'anno, quindi non è così impegnativo, se vogliamo. È un gesto importantissimo, ma facile da svolgere, perché una donazione di sangue, tu lo sai, dura 15 minuti al massimo. Sì, sì, sì. E poi da lì ho cominciato, una volta un po' più libera da altri impegni lavorativi, ho cominciato ad essere coinvolta a livello organizzativo, gestionale, nella segreteria, le classiche telefonate ai donatori, quindi, e poi dopo. Ti chiamano una donazione il 15 di settembre. Sei pronto? Ci sei? Tac! Va bene! Mi stavo dimenticando, ma sì, ci sono. Ecco quello, sì. E quindi poi dopo, poco per volta, riesci a... Ti fai coinvolgere, almeno a me è successo così, ti fai coinvolgere fino ad arrivare, ad avere anche incarichi un po' più di responsabilità, un po' più coinvolgenti, ecco, nello stesso modo, quindi... E sono quindi tuttora presidente praticante, come mi piace dire, perché dono ancora. Sono ancora nel range di donatori attivi, per cui tocco con mano questa realtà. Lo dicevamo anche prima di iniziare la registrazione ufficiale, che sono tantissime, molto importanti le sensibilizzazioni per entrambe le associazioni per cui siete qui oggi, quindi sia per Avis che per Admo. Ve ne ricordate una in particolare che vi ha lasciato? C'è un momento in cui avete parlato a un pubblico di giovanissimi, in cui gli avete spiegato appunto la funzione e perché bisogna donare, un momento che vi ricordate di preciso, cioè che portate con voi. Allora, io come sensibilizzare, ovviamente mi rivolgo a un pubblico che non può donare per adesso. Sono i bambini di classe quarta elementare di Via Casartelli. L'anno scorso ho avuto la fortuna di incontrare Cristina, che mi ha accompagnato in questo percorso, perché comunque le richieste, per mettersi d'accordo col centro trasfusionale di Cantù in ospedale e quindi portare 42 bambini, perché abbiamo portato due classi. E in quell'occasione ho visto veramente i bambini comprendere e superare, in un modo veramente tranquillo e con tanto interesse e molto attivo, quelle che erano delle piccole, chiamiamole paure, e in quel momento lì hanno notato, perché poi dopo l'attività in presenza abbiamo praticamente continuato il percorso in classe, hanno tutti compreso come un'attività, un'alimentazione corretta, un'attività corretta. Pensate che molti bambini che i loro genitori fumavano, dopo questo, diciamo, questo progetto che abbiamo portato a termine i genitori mi hanno detto mamma che casotto che ha fatto perché non volevano che fumassi, perché se no mi fanno male, perché se no così, ah perché la mamma, no ma papà beve il vino, io gli ho detto mi raccomando devi bere in modo moderato perché se no un domani tu non potresti donare e quindi è importante l'attività sportiva, sono tutti quanti super calciatori proprio per mantenersi in forma perché un domani vorrebbero arrivare, diciamo, quello è stato appunto il momento che mi ha particolarmente colpita. Poi ovviamente nell'ambito scolastico siamo sempre lì, le emozioni sono tante perché sono giovani, sono ragazzi, io ovviamente ho raccontato adesso l'episodio della scuola primaria, ma ci sono anche le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado dove lì veramente appunto in collaborazione con Aido abbiamo veramente compreso, loro secondo me si sono resi conto attraverso molte riflessioni che poi si sono fatti durante gli incontri il vero valore del dono che spesso non è donare sangue perché ad esempio io personalmente non posso donare sangue perché il mio fisico non me lo permette, però posso donare il mio tempo, quindi è un'altra forma di dono che si può dare all'associazione, avvicinarsi all'associazione anche e soprattutto i giovani perché l'Avis oltre alle sacche di sangue ha anche bisogno di persone che se ne occupano, abbiamo appunto l'esempio del nostro presidente Cristina che dedica tantissimo tempo per l'organizzazione dei prelievi e dei progetti, degli eventi, cioè dietro c'è un lavoro che se non si è veramente appassionati è difficile portarlo avanti, quindi bisogna veramente sentirlo dentro, cioè sentire una passione profonda che coinvolge un po' tutte noi e così fa sì che l'associazione abbia diciamo degli esiti positivi sia per quanto riguarda la donazione che per quanto riguarda la partecipazione. I volontari che lavorano anche in modo integrato con molte figure professionali che ci sono perché tutto mi sembra di capire un lavoro di team. Sì, sì, di concerto. Assolutamente sì. c'è il medico, ci sono gli infermieri, le infermiere che è bello perché dopo un po' di donazioni impara a conoscerle, ti chiedono, sono molto gentili, ti chiedono come sta andando. Sì, 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 sono sempre molto attento. Guai, guai, perché sempre saluto la tutela, l'integrità del donatore è comunque sempre al primo posto, quindi c'è anche questa attenzione particolare durante la donazione vera e propria. Mi ricordo i bambini in quell'episodio che erano tutti contenti che poi dopo ce le rinfresco, quindi... Questo ci richiama alla colazione post donazione che è sempre offerta a tutti i donatori. È sempre molto gettonata, sì, troppo a farlo. bloccare il ristoro è sempre... Vedo che la nostra regia esulta anche per questo, visto che anche lui è arrivato a donare. Concretamente, proprio le donazioni come funzionano? Cioè, qual è l'iter durante la donazione e poi post donazione? Nel senso, non so se avete presente, prima facevo anche a Frizz l'esempio di quel programma su... non mi ricordo su che canale, come è fatto, no? Ah, sì! Tutti i processi della fabbrica. Adesso, non chiamiamola fabbrica, però, che fine fa il nostro sangue, il sangue che viene donato? E la stessa cosa per il midollo osseo, perché immagino che lì sia un iter un po' più complesso, forse. Allora, noi, allora, come si può fare a diventare a iscriversi nel registro dei donatori di midollo osseo? Qui, in provincia di Como, abbiamo i due centri, Fatebene Fratelli, di Erba e il Valduce di Como. Ci si può iscrivere chiamando il trasfusionale o di Erba o del Valduce, oppure seguendoci sulle nostre pagine social su Instagram e su Facebook a nome di Adamo Como e in pratica noi cosa facciamo? In pratica Adamo fa da passate fra l'ospedale e proprio appunto al papabile donatore, perché noi organizziamo anche eventi outdoor, cosa vuol dire? Proprio invitiamo i ragazzi a iscriversi da noi, facciamo noi il piccolo prelievo di sangue adesso spiegherò nel dettaglio e poi in pratica il già lì io ragazzi sono assolutamente già iscritti e soprattutto comprendenti al registro. apro una piccolissima parentesi perché se persone malate come lo ero io cercano il loro gemello genetico e il loro gemello genetico c'è in giro per il mondo in giro per il mondo che bello no? Vuol dire che la cura c'è esatto? devi trovarlo però trovarlo trovarlo intuito dei centri si inceppa si ferma il donatore non lo troviamo adesso vado nel dettaglio cosa succede noi mettiamo questi eventi di tipizzazione sui nostri social invitiamo i ragazzi ripeto dai 18 35 anni che pesino almeno 50 kg che ovviamente godono di buona salute a venire da noi abbiamo un medico del centro donatori facciamo il prelievo di sangue fanno una chiacchierata col medico oppure un infermiere designato compilano un questionario medico e poi siamo noi o meglio ancora il medico a portare al centro trasfusionale dove poi partirà tutto per andare a consegnare la provetta all'ospedale di Genova dove c'è la banca dati nazionale italiana dove è collegata a livello mondiale appunto perché se noi doniamo qui in Italia possiamo anche non solo aiutare italiani persone qui nel nostro territorio ma possiamo anche pensate che bello magari anche a dare una mano salvare la vita magari a un bambino che abita negli Stati Uniti e ho detto bambini proprio nello specifico perché io ho toccato con mano la malattia e purtroppo no lo faccio anche veramente con tanta passione come mi diceva prima anche Ivana ci sono un sacco di bambini ragazzi adolescenti che hanno bisogno di tutti noi e di una mano hanno bisogno di noi e qui volevo anche sottolineare persone e ne sto sentendo parecchie che mi dicono caspita ma io sono fuori io ho 38 io ho 40 anni cavolo mi sarebbe piaciuto iscrivermi al registro ma non posso perché sono fuori età io dico sì ma per metà perché attenzione parliamone sensibilizziamo come diceva prima Cristina col passaparola salviamo tantissimo i viti ed è così nel concreto ragazzi è così più ne parliamo più arriva interessamento più sensibilizziamo e più e qui voglio riportare una frase di mio papà che ha detto al secondo ciclo di chemioterapia a cui mi ero sottoposto quando mi hanno dimesso per andare a casa qualche giorno per poi arrivare al trapianto vero e proprio disse questa frase caspita qui così i materassi non fanno in tempo diventare freddi cosa vuol dire via io dentro un altro perché insistiamo perché insistiamo così tanto ragazzi informiamoci poi informiamoci perché la gente che si ammala e la gente che ha bisogno di tutti noi è tantissima e poi noi noi di Admo anche il nostro messaggio di sensibilizzazione è anche un attimino togliere tutte le leggende metropolitane che girano intorno al midollo osseo perché ci sono il midollo osseo è sempre confuso con il midollo spinale no sul sito c'è scritto esatto è la prima cosa il midollo osseo non è non è il midollo spinale sono due cose assolutamente differenti per spezzare una lancia e poi è un percorso se vogliamo dire semplice perché si tratta di un prelievo di sangue per la tipizzazione esatto e poi dovesse capitare di essere compatibili per una donazione di midollo osseo si tratta di un altro prelievo di sangue non è invasivo non è invasivo quindi ti capita se ti capita una volta nella vita quindi anche perché io sento anche certe paure possono essere tranquillamente ma giustamente cancellate perché perché io mi sono anche sentito dire che ma mi hanno detto nelle scuole a me piace tantissimo andare nei licei noi noi contattiamo di solito le classi quinte barra quarte perché sono proprio quelle che rientrano nella nostra specifica di età e ripeto mi sono anche sentito dire diverse volte io ma a me mi hanno detto che il lago per il prelievo è lungo mezzo metro io mi ricordo gli ho risposto a questa ragazzina guarda che è un metro e mezzo e si è messa a ridere tutta la classe giustamente è un metro e mezzo e da lì poi tutte braccia alzate un sacco di domande ma a me mi hanno detto che il resto in sedia a rotelle no saremo dei pazzi cioè se andassimo a mettere in pericolo i donatori che vogliono salvare o dare una mano ad altre persone se li mettessimo in pericolo saremo dei pazzi furiosi invece dice no non è così informiamoci 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 siamo nelle mani comunque di persone esperte anche medici infermieri che agiscono assolutamente siamo supportati da professionisti come diceva prima Cristina da professionisti sanitari e poi non dimentichiamo che innanzitutto la tutela del donatore comunque e sempre rispetto alla sensibilizzazione come abbiamo detto prima recentemente c'è stato un caso di attualità che ci ha un po' fatto muovere le fila per riuscire a organizzare questa puntata ci sembrava un po' importante anche citarlo il 28 settembre scorso il rapper personaggio pubblico italiano Fedez è stato ricoverato al fate bene fratelli a Milano per un'emorragia interna ha perso molto sangue ha subito un intervento molto invasivo è stato poi dimesso due settimane dopo è uscito dall'ospedale davanti ai giornalisti ha detto letteralmente senza i donatori di sangue io non sarei qui poco tempo dopo intraprende in una campagna in collaborazione con Avis comunque divulga sulle sue pagine l'importanza della donazione e anche Chiara Ferragni qualche settimana fa ha fatto lo stesso pubblicando un post che la ritrae sdraiata sul lettino mentre sta donando il sangue il risultato come riporta il Corriere della Sera ha file di centinaia di persone fuori dalle sedi di Avis Milano soprattutto per donare quindi tutto un pubblico di nuovi di nuovi donatori quello che ci chiedevamo è effettivamente quanto è importante per un giovane donatore che ci sia questa sensibilizzazione da parte di personaggi con un bacino di influenza così largo e dall'altra parte anche quale effetto fa sentire questa attenzione sul tema questi riflettori puntati sulla tematica allora certamente è stato un messaggio molto importante e decisamente incisivo quello lanciato da Fedez perché appunto ha toccato con mano la necessità l'esigenza di avere delle sacche di sangue a disposizione e sicuramente l'impatto poi lo abbiamo registrato anche noi nel nostro piccolo abbiamo avuto un incremento di richieste di contatti e di domande di iscrizione in seguito a questo evento perché ci piace un po' chiedere come mai hanno avuto questa bell'idea i donatori quando vengono a iscriversi certo è che non è sufficiente è vero la sensibilizzazione di questi personaggi è importante perché è molto diretta molto incisiva sul loro pubblico sui loro appassionati deve essere seguita però e poi dalla vera consapevolezza da parte di questi donatori di accogliere il messaggio e quindi diventare donatori in modo consapevole serio continuo soprattutto questo è il nostro augurio è sicuramente stato un ottimo cavallo per Avis per aumentare il numero dei donatori sicuramente e questo ci fa piacere speriamo che Fedes continui in questa sua campagna di promozione ricordando di ricorrere a questo gesto meraviglioso che è la donazione di sangue però assolutamente non deve essere esatto bravissimo c'è quest'altro aspetto che noi rimarchiamo sempre perché chiediamo se è di età di comportamento quindi rispettare gli appuntamenti presi perché non è sufficiente dire io dono il sangue ogni quanto ho voglia bisogna essere disponibili alle necessità del d'altra parte poi dicevate che c'era ad esempio Tiziano Ferro testimone all'ufficiale di Avis esatto che lui è da anni che segue l'associazione e in ogni suo concerto lancia il suo messaggio a favore di Avis quindi promuove la donazione di sangue quindi ecco che mi auguro che non sia solo una 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 dettata e così e basta dettata dalla necessità del momento diciamo che con Tiziano Ferro abbiamo avuto proprio la conferma che è un testimonial dove non ha avuto bisogno di sacche di sangue oltretutto ma è stata una passione che lui ha indipendentemente di aver ricevuto meno sangue bisogno quindi il dono il ruolo l'importanza del dono è una cosa che ha fatto sua e che ha condiviso un po' con tutti i suoi tra l'altro questa cosa non la sapevo l'aveva scritta Fritz anche per Admo c'è stato però un testimonial che è un pilota non so di cosa esatto esattamente perché anche proprio sul ho visto sul sito di Admo Lombardia che c'è stato Alberto Nasca esatto sì anche lui è un pilota di Gran Turismo e si vede proprio nel video che si reca sul circuito e intervista una persona che è lì un altro pilota appassionato come lui che è stato salvato da un donatore e dopo questa testimonianza fa vedere anche lui anche Alberto che va esatto ed è importantissima questa questa cosa perché c'è veramente facciamo vedere che sarà un po' cinico sarà un po' cinico che quando ci colpiscono poi veramente diventiamo che forse non è il termine giusto tutt'uno con tutti diventiamo diventiamo io ho sempre ripeto io l'ho vissuta sulla mia pelle quando vivi certe cose come questo ragazzo che ha preso il microfono e è andato a intervistare un altro ragazzo che corre cioè vuoi proprio portare nel mondo la tua esperienza per dire basta veramente poco per salvare vite e poi io magari dico anche basta veramente poco che possiamo diventare noi tutti protagonisti e mi riallaccio quel discorso della compatibilità dell'uno su centomila e pensiamo che bello riuscire ad arrivare a un altro pianto di midollo a poter donare in quel momento lì usciamo dall'ospedale e abbiamo la sicurezza che al mondo ero l'unica persona che poteva salvare la vita quella malattolì l'unica cacchio ero io e io mi ricordo le celluline di mio fratello sono arrivate nella sacca a mezzogiorno e questo è una cosa che voglio sempre regalare al pubblico perché non si dice mai noi persone che siamo stati ammalati abbiamo ricevuto per il ricevente è come se fosse una trasfusione di sangue normalissima però io quando ho sentito il sangue di mio fratello che mi è entrato nel corpo è stata una sensazione eterea perché dico eterea perché mi sono sentito tutto il corpo scaldato anche perché il sangue era caldo era stato appena prelevato le celluline stabinali di mio fratello erano appena state prelevate e mi sono sentito tutto l'organismo caldo come se avessi dentro un fuoco che mi bruciava dentro ma era meraviglioso e io ragazzi io mi sono visto mi sono sentito sollevare dal letto un mezzo metro che fluttuavo nell'aria in pratica avevo questo vortice di fuoco che mi avvolgeva e mi hanno detto io sono rimasto un'oretta con le mani conserte con un sorriso mi hanno detto tu sorridevi per un'oretta così e voglio regalarlo al mondo perché una cosa così va detta a me con la mia donazione io ho sentito questo e voglio donarvelo perché ragazzi succede questo poi sembra sempre che queste storie comunque non ci tocchino che siano anche lontane da noi però effettivamente se ci guardiamo intorno sono più vicine di quel che pensiamo e ci stavate raccontando prima anche che a Cantù c'è stato un caso di trapianto di midollo osseo ed è stato molto interessante perché le vostre due associazioni Avis e Atmo hanno collaborato e sono riuscite a raccogliere un grande gruppo di cittadini di persone interessate per riuscire a salvare la vita di questo bambino volete raccontarci un po' cosa è successo esatto sì il piccolo Enea di una coppia di genitori di Cantù li abbiamo conosciuti in un evento outdoor ecco perché l'importanza di fare eventi outdoor di farci conoscere a più persone possibili dicendoci che il loro bimbo aveva bisogno di un trapianto di midollo osseo e qui voglio sottolineare una cosa abbiamo fatto questo evento di tipizzazione per Enea ok match for Enea ma anche i genitori a mamma e il papà hanno sottolineato il nostro messaggio facciamo questo evento per Enea ma anche per tutti gli ammalati nel mondo voglio sottolineare questa cosa che i genitori hanno anche fatto di video per sottolineare questa cosa per il nostro Enea poi è stato trovato un donatore adesso è un bambino bellissimo in piena salute ma soprattutto ragazzi per tutti gli ammalati che aspettano un trapianto di midollo osseo nel mondo questo è fondamentale saperlo capirlo e appassolarsi ma più che altro a parte quello che hai detto che è bellissimo la cosa stupenda è stata vedere la partecipazione di tutti i cittadini canturini e zone limitrofe partecipare a questo evento sono stati due giorni meravigliosi dove abbiamo collaborato con Admo ed è stato cioè io lo ricordo veramente con tanto affetto e tanta emozione perché ogni persona giovani che venivano ma anche venivano a trovarci per vedere un po' com'è che andava l'affluenza genitori che accompagnavano i figli giovani era è stato veramente sono state due giornate che io li ricordo come se fossero ieri ma emotivamente si era tutti spinti dall'idea dalla possibilità di poter salvare questo bambino che poi non si è realizzata nel senso in quel contesto perché il donatore è stato trovato poi all'estero ma comunque si è lasciato la propria traccia la propria possibilità di salvezza per qualcun altro un messaggio importante che è stato lasciato e viene lasciato con questi eventi assolutamente speriamo anche che la nostra puntata di oggi dalle testimonianze che avete fatto possa aiutare il nostro piccolo pubblico a fare chiarezza dai a fare chiarezza e a invogliare se posso e invitare allora lasciamo anche questo messaggio superate le vostre remore le vostre dubbi le vostre piccole paure piuttosto interpellateci venite a chiedere siamo disponibilissimi anche solo a dare informazioni perché giustamente uno poi se lo deve sentire non deve essere mai forzata la mano o la cosa in queste situazioni però pensando anche in fondo in fondo e se capitasse a me posso dire una frase che ho paura del lago mi do l'osso caspita che paura voglio andare a donare il sangue in avvis però mamma mia che paura secondo me bisognerebbe avere paura se avessimo bisogno noi di sangue o se dovessimo avere bisogno noi nel personale un trepianto di mido all'osso perché se non troviamo il donatore compatibile o non c'è abbastanza sangue ecco forse secondo me è lì che bisognerebbe cominciare un po' ad aver paura scusatemi il cinismo forse perché ci sono un passato però però ecco togliamo questa paura come? si può fare tranquillamente interessandoci donando e soprattutto parliamone già con i nostri bimbi senza avere timore senza avere paura perché a volte sono anche i genitori che cercano di proteggere i bambini da una cosa bella a mio parere che comunque ci circonda oggi in realtà e situazioni veramente devastanti parlo a questi social come TikTok che spesso creano molti danni e quindi secondo me parlare con i propri figli dell'importanza del dono del sangue e del trapianto di midollo osseo o di donazione di organi secondo me magari donazione di organi un po' meno ai bimbi perché è un po' più complessa ma queste due associazioni veramente invito tutti a parlarne perché secondo me è molto è importante far capire fin da piccoli il vero significato del dono in generale esatto è veramente importante poi si può declinare in diverse situazioni anche perché anche cominciare immediatamente ora io dico tiriamo su è un po' magari una cosa brutta non ha molto significato però cominciamo a intraprendere una filosofia a far intraprendere un aspetto della vita anche anche ai più piccoli e ai più giovani e un domani abbiamo già ragazzi preparati che magari Ivana arrivano subito a 18 anni vado in comune scrivermi per la donazione di organi vado a Lavis e scrivermi vado a scrivermi al registro del donatore dimmi dall'osso e per me si può fare ma ritorniamo al solito discorso inizi da bambino questo filo questo fil rouge che inizi con gli elementari e continui con le medie concludi con le medie e inizi con le superiori e già lì ti ritrovi un ragazzino uscito dalle superiori che già è consapevole perché ha fatto un percorso e noi lo sappiamo con i nostri progetti nelle scuole noi come Avis voi come Admo che comunque questo fil rouge è importante portarlo cioè iniziarlo e proseguirlo poi trovi terreno fertile nelle famiglie in cui già i genitori o uno dei due genitori già sono e ce ne sono tanti le senti subito anche le medaglie ti portano le medaglie delle donazioni è bellissimo delle programazioni per il numero di donazioni cioè io l'anno scorso mi sono ritrovata questa medaglietta ma mio nonno il presidente di Avis e di Cantù ha dato la medaglia mio nonno e l'ha portata come per lui cioè veramente un trofeo importante è stato un piccolo gesto e ho fatto capire poi a tutta la classe che comunque veramente è di grande valore e di grande importanza scusate la ripetizione però ci tenevamo anche a ripetere questa cosa vediamo proprio vediamo proprio la passione con cui lo fate quindi invitiamo ancora tutti ad andare a donare a iscriversi al registro quindi per Avis Admo poi è stato citato anche Aido che è la terza realtà donatori organi per concludere allora vi chiederei dateci un po' i riferimenti proprio come può fare una persona che vuole informarsi qui sul nostro territorio dove può recarsi dove può trovare informazioni allora la nostra sede si trova qui in Via Alciato a Cantù siamo in zona Croce Rossa quindi qui facilmente raggiungibile ci trova il pomeriggio in sede può passare a iscriversi se già è determinato in tal senso ma anche solo a chiedere informazioni oppure tramite il nostro sito ci può contattare tramite il nostro sito che è aviscantu.it quello poi diamo tutte le indicazioni per il percorso da svolgere con la visita agli esami di donna età e poi per poter iniziare a donare gli orari di apertura dalle 15 alle 19 nel pomeriggio ci siamo perfetto Admo invece noi facciamo riferimento alla segreteria regionale di Milano che ha un sito che io dico che è meraviglioso perché è molto esplicativo e risponde a tantissime domande non che con il numero di telefono i ragazzi della segreteria vi aspettano e sono solamente felici di rispondere a qualsiasi domanda il sito è www.admolombardia.org e poi noi della sezione di Como abbiamo la nostra pagina Admo Como sui social sia Instagram che Facebook qualsiasi domanda ma anche qualsiasi piccolo dubbio veramente vi aspettiamo a babbraccia aperta ragazzi va bene vi ringraziamo molto grazie a voi grazie a voi benvengano queste trasmissioni della possibilità di aver fatto questa viacchierata pubblicazione grazie mille grazie seguiteci diciamo sempre ai nostri ascoltatori su Instagram Facebook e la puntata YouTube Spotify Google Podcast Amazon Music ci trovate ok grazie mille grazie a voi grazie grazie ciao ciao